Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. È l'ottobre del 1980, Marlene Knox, la protagonista del nostro caso, e Bill Magier vivono nella città rurale di Verona, nel Kentucky, in una piccola roulotte con i loro due figli piccoli, Donald e Lallana. La coppia è sposata da nove anni e sono convolati a nozze quando Marlene aveva appena 16 anni. Helen Marlene Knox nasce il 7 dicembre 1955. Marlene è figlia di Willie Billy Craig Knox e Lorraine Mildred McQuarrie. Viene chiamata con il suo secondo nome e anche con il suo nome da sposata, ossia Marlene Magier. William Alexander, detto Bill Magier, nasce il 6 gennaio 1944. Lavora come meccanico e ripara le auto nel garage della sua proprietà. Ha un sacco di affari, in quanto molti veicoli si guastano sulla I-75. Suo padre, James Magier, descrive suo figlio Bill come un incantatore capace di dissuadere chiunque, ma realisticamente non puoi credere ad una parola di quello che dice. Il matrimonio di Bill e Marlene lentamente arriva il capolinea. La coppia litiga molto e la situazione è parecchio tesa tra loro. Marlene Knox è sentimentalmente coinvolta anche con un altro uomo, mentre è sposata con suo marito. L'uomo, Glenn Hayler, è un ex saldatore. È stato assunto da suo marito col fine di farlo lavorare nel suo garage. La coppia aveva incontrato Glenn quando il suo camion si era rotto. Stava viaggiando dall'Ohio al Texas. Glenn alla fine resta con la coppia per vivere in un camper nella loro proprietà. Bill Magier, chiariamo, non solo sa che sua moglie e Glenn dormono insieme, ma li incoraggia. Un giorno Marlene scopre che suo marito ha fatto cose non troppo corrette con il loro figlio di 8 anni, Donald. Si arrabbia moltissimo e scrive il tutto sul suo diario. Marlene scrive tutto ciò che succede nella sua vita su quel diario. A questo punto inizia giustamente a fare dei piani per portare entrambi i bambini a vivere da qualche altra parte. I ragazzi, pensa Marlene, devono poter stare in un ambiente sicuro, lontano da Bill. Marlene scrive il seguente passaggio nel suo diario dopo aver scoperto cosa aveva fatto Bill a suo figlio. So quello che ho visto, gli ho detto di non toccarmi mai più e se tocca Donald lo ucciderò. Bill è estremamente arrabbiato all'idea che Marlene prenda i bambini e scappi. Fa diverse conversazioni con gli amici e dice loro che se Marlene avesse mai cercato di lasciarlo, lui l'avrebbe uccisa. È estremamente esplicito nella sua descrizione poiché dice a uno dei suoi amici che avrebbe smembrato Marlene Hawks. Bill dice a Glenn che avrebbe sparato a Marlene, le avrebbe tagliato la testa e le avrebbe strappato i denti in modo che la polizia non sarebbe mai stata in grado di identificarla. Questo sì che sarebbe il crimine perfetto, pensa Bill. Nessuno avrebbe mai scoperto cos'era successo a Marlene. Marlene a questo punto inizia a temere seriamente per la sua incolumità. Teme che le cose sarebbero andate nel peggiore dei modi se avesse effettivamente cercato di andarsene come aveva previsto. Scrive sul suo diario che Bill avrebbe accettato di firmare i documenti per il divorzio se la cosa che aveva fatto contro il bambino non fosse stata resa pubblica. Se Bill non avesse firmato i documenti, allora sarebbe andata dritta dritta dalla cognata di suo marito per dirle cosa aveva fatto. L'11 ottobre 1980 Marlene aveva chiamato sua sorella e le aveva spiegato di quanto fosse infelice con Bill. Il suo matrimonio si era trasformato in un incubo. Aveva aggiunto che aveva intenzione di divorziare da suo marito. Inoltre le aveva informata di ciò che Bill aveva fatto a suo figlio. Era in possesso di alcune prove contro Bill. Erano nascosti in un posto sicuro dove suo marito non avrebbe potuto trovarle. Se le fosse successo qualcosa Marlene aveva detto a sua sorella che l'informazione sarebbe andata dritta dritta alla polizia. Più tardi, quello stesso giorno, aveva chiamato nuovamente sua sorella ed era chiaro fosse estremamente sconvolta perché lei e Bill avevano litigato. Marlene aveva lasciato i suoi diari a Glenn. Se le fosse successo qualcosa, almeno loro avrebbero avuto una possibilità di sopravvivere. Infatti Marlene aveva spiegato a Glenn e a sua sorella che, se le fosse successo qualcosa, avrebbero assolutamente dovuto dare un'occhiata al suo diario perché avrebbero trovato tutte le risposte alle loro domande. Quella notte Marlene e Bill avevano avuto un'accesa discussione e Glenn aveva lasciato la proprietà per rinfrescarsi e fare un giro e non era tornato prima di mezzanotte. Quando aveva fatto ritorno a casa, aveva sentito un grande caos. Successivamente aveva notato Bill che alle 3 del mattino si stava avvicinando a lui con l'intenzione di parlargli. Bill aveva chiesto a Glenn dove fossero Marlene e i bambini. A quanto dice Bill, Marlene se n'era andata durante la discussione e aveva preso con sé i loro due figli. Ma, appena due giorni dopo, Glenn aveva scoperto che Bill gli aveva mentito. Glenn, infatti, era venuto a sapere che i bambini non erano affatto con la loro madre Marlene. Durante la notte della discussione, Bill aveva accompagnato i bambini a casa del vicino alle 23 e aveva detto loro che Marlene aveva deciso di scappare con il suo amante Glenn. Glenn, ovviamente, sapeva con certezza che non era affatto vero. Lui non era scappato con nessuno e da nessuna parte. L'ultima volta che aveva visto Marlene era stato quando se n'era andato verso mezzanotte durante la lite tra Marlene e Bill. La domanda a questo punto sorge spontanea. Glenn si stava chiedendo perché Bill gli aveva mentito su quello che era successo. Perché aveva lasciato i ragazzi e mentito ai vicini dicendo che Marlene era scappata via in quel modo? Non appena aveva scoperto quello che Bill aveva detto ai vicini su come Marlene aveva lasciato i ragazzi, Glenn aveva capito che c'era qualcosa che non andava. Marlene Hawks amava i suoi figli con tutto il cuore e non li avrebbe mai abbandonati al vicino per poi lasciare la città. Non l'avrebbe mai fatto. Da quando Marlene era scomparsa, Bill non solo lasciava spesso i suoi figli dai vicini, ma li andava a trovare perché doveva regalare al vicino molte delle sue pistole. Dopodiché aveva venduto il suo trattore, sempre allo stesso vicino, dicendogli che aveva intenzione di tornare a Rhode Island. Ad un certo punto, nei giorni successivi alla scomparsa di Marlene, Bill aveva chiamato l'ufficio dello sceriffo della contea di Boone per denunciare la scomparsa della donna. Spiega che avevano litigato e lei se ne era semplicemente andata via. Anche Glenn aveva chiamato la polizia e aveva detto loro quello che sapeva dicendosi preoccupato per l'incolumità di Marlene. Racconta loro di come Marlene gli avesse dato i suoi diari per tenerli al sicuro e anche di come Bill avesse regalato le sue pistole al suo vicino. Quando la polizia inizia ad indagare sulla scomparsa della donna, scopre che Marlene non aveva portato nulla con sé, tranne il suo veicolo. La sua patente di guida era ancora a casa, così come i farmaci alle prescritti. La polizia inizia le indagini cercando Marlene nella zona, senza successo. Marlene Hawks era descritta come una donna bassa, con gli occhi nocciola, indossava gli occhiali durante la guida e aveva i capelli biondi. Indossava un paio di jeans e una camicia di flanella a quadri blu e verde, quando era scomparsa. Bill aveva dipinto un quadro cupo riguardo l'insoddisfazione di sua moglie per il loro matrimonio. Mentre parlava con Donald e la lana, Bill aveva detto ai suoi due figli piccoli che la loro mamma era pesantemente coinvolta nella prostituzione, nelle sostanze e nell'alcol. Donald aveva otto anni e la lana ne aveva quattro quando la loro madre era scomparsa. Erano estremamente sconvolti dal fatto che Marlene se ne fosse andata e che entrambi fossero costretti a vivere solo con il loro padre violento. La polizia pensava che Marlene potesse essere semplicemente andata via, perché infelice del suo matrimonio. Tutto ciò che sanno è che Marlene Hawks aveva semplicemente lasciato la sua casa durante una discussione e non era più tornata. Le autorità dunque avevano iniziato ad indagare sui due uomini che credevano potessero essere potenzialmente coinvolti nella scomparsa della donna, Bill Mayer e Glenn Hayler. In casi come questo era probabile che il suo ragazzo e il marito potessero essere coinvolti. Entrambi gli uomini si erano rifiutati di ammettere qualsiasi colpevolezza in merito e quando la polizia aveva chiesto a Bill Mayer se voleva fare un test del poligrafo, aveva rifiutato categoricamente. Insomma, era davvero poco collaborativo. Nei giorni successivi Bill Mayer aveva venduto la sua terra e i suoi beni, quindi era preso ad impacchettare in fretta e furia i suoi averi rimasti. Bill aveva detto alla gente che voleva vivere più vicino ai suoi genitori, a Est Providence. Aveva comprato una roulotte a Potaket, una città con un alto tasso di criminalità. La polizia nel frattempo aveva preso i diari da Glenn e aveva iniziato a leggerli sperando di scoprire qualcosa che spiegasse la scomparsa della donna. Dopo aver letto i suoi diari, la polizia pensava che il loro contenuto fosse sufficiente per essere il motivo della scomparsa della donna. Ma nella loro mente non era abbastanza per un'accusa di omicidio, soprattutto perché non erano stati in grado di trovare alcun indizio sospetto nella roulotte. La polizia a questo punto voleva parlare con suo figlio Donald Mayer riguardo alle accuse che Marlene aveva riportato nel suo diario e così si erano recati a Rhode Island per interrogarlo. Gli avevano parlato ma, tanto per cambiare, non erano riusciti ad ottenere molte informazioni da lui. Donald non aveva parlato molto di quello che era successo, probabilmente perché era spaventato. Quando Bill aveva scoperto che Donald aveva parlato con la polizia lo aveva picchiato accusandolo di fornire informazioni per metterlo nei guai. Le cose non troppo corrette non si erano fermate una volta che si erano trasferiti nel Rhode Island. Anzi, aveva iniziato a fare cose non troppo giuste anche a sua figlia. Bill portava spesso i suoi figli a lavorare con lui e anche lì faceva cose non troppo giuste con loro. Il 29 novembre 1981 un cacciatore si era imbattuto in una parte di teschio. Il cranio sembrava essere stato staccato dal corpo con un oggetto appuntito. C'era una ferita da proiettile sul cranio e anche la mascella era stata rimossa, quindi non erano presenti i denti. Il teschio era stato rinvenuto circa due chilometri dalla vecchia proprietà di Bill, più precisamente nella proprietà vicina appartenente alla famiglia Waller. Bill Maggior aveva familiarità con la proprietà, poiché in alcune occasioni gli aveva lavorato. Per anni la polizia non era stata in grado di risalire all'identità della vittima. Si credeva che quella parte di teschio appartenesse ad una donna bianca di circa 30 anni. Nulla di più. Le autorità avevano stabilito che la vittima era morta per più ferite d'arma da fuoco. C'erano inoltre prove del fatto che la vittima fosse stata smembrata. Anche se il teschio si trovava molto vicino alla proprietà di Bill, la polizia non era stata in grado di determinare se il teschio appartenesse a Marlene Hox. Questo perché all'inizio degli anni Ottanta il modo principale con cui le autorità erano in grado di identificare i resti scheletrici era l'uso delle impronte dentali. Ma il cranio che era stato scoperto non aveva denti. Insomma, non c'era modo di determinare se appartenesse a Marlene Hox, anche se si sospettava che fosse il suo teschio. Marlene Hox era ancora considerata una persona scomparsa. Alla fine, quando gli esperti forensi avevano cercato di utilizzare il tradizionale test del DNA, si erano resi conto che l'osso era troppo deteriorato ed era impossibile effettuare il test. Nel 1981 Bill Maigure aveva sposato una donna di nome Pauline. Era una gentile matrigna per i due bambini e andavano d'accordo. Anche questo matrimonio, tuttavia, aveva avuto vita breve. Nel 1984 Pauline aveva scoperto che Bill faceva cose non troppo giuste ai bambini. Erano andati da lei dicendo che Bill aveva detto a Donald che avrebbe ucciso la lana se lo avessero denunciato. Erano, a dir poco, terrorizzati da loro padre e avevano bisogno di confidarsi con qualcuno. Speravano che la matrigna, ossia Pauline, sarebbe stata in grado di porre fine al comportamento orribile di Bill. Pauline era sconvolta da ciò che aveva scoperto, ovviamente. Aveva affrontato suo marito per le sue azioni spregevoli e lui aveva promesso che si sarebbe fermato. Ma presto il tutto, ahimè, era rincominciato. Non appena Pauline si era resa conto che non avrebbe lasciato stare i bambini, era andata a dritta alla polizia e aveva raccontato loro con estrema precisione tutte le cose vivi e spregevoli che Bill aveva combinato. Pochi giorni dopo che lei lo aveva denunciato, Bill aveva avuto un confronto con sua figlia la lana. Le aveva puntato una pistola addosso e le aveva avvertita di tenere la bocca chiusa. A questo punto Bill, sebbene fosse stato condannato a 15 anni, aveva scontato solo 10 anni ed era stato rilasciato nel 1996. Successivamente era stato trasportato di nuovo in Kentucky, poiché era accusato di aver aggredito suo figlio, Donald, anni prima. E tra l'altro altri due ragazzi si erano fatti avanti e avevano affermato che Bill Maygure aveva aggredito anche loro. Quando Bill era stato condannato nel 1985, i due bambini erano andati a vivere con la madre di Marlene, Lorraine Ox, che viveva nel Kentucky. Lei e suo marito erano in grado di offrire ai bambini un ambiente familiare amorevole, una vita libera dal padre disturbato dove avrebbero finalmente potuto crescere tranquillamente. Quando era cresciuta la lana si era interessata sempre di più alla scomparsa di sua madre. Pensava che sua madre avesse semplicemente lasciato la famiglia, abbandonando lei e suo fratello. Aveva solo quattro anni quando Marlene era scomparsa. La lana aveva iniziato a scavare nel caso di sua madre, leggendo vecchi articoli e parlando con sua nonna di quello che era successo durante gli anni precedenti. Ma quando ne aveva parlato con sua nonna, la lana era rimasta scioccata nel sentire Lorraine dire che aveva sempre creduto che Bill avesse ucciso Marlene. Lorraine non aveva alcuna prova, ma sapeva che sua figlia non se ne sarebbe mai andata così. Ad un certo punto la lana aveva deciso di confrontarsi con suo padre sulla scomparsa di Marlene. Sua madre era scomparsa da anni e aveva il diritto di sapere cosa le fosse successo. Aveva detto a suo padre che voleva conoscere la posizione dei resti di sua madre in modo da poterle dare una degna sepoltura. Inoltre gli aveva promesso che se le avesse comunicato dov'era Marlene, lei non avrebbe coinvolto le autorità per la questione. Bill Maigure aveva risposto se pensi che ti dirò dove è sepolta tua madre, sei pazza. La lana aveva cercato di convincerlo a dirle qualsiasi cosa, ma Bill Maigure si era rifiutato di parlare. La lana a questo punto sapeva che suo padre non l'avrebbe aiutato affatto e così aveva iniziato ad indagare da sola. La lana non ne sapeva molto di medicina legale o di veri crimini. Aveva quindi iniziato a guardare molti documentari sul vero crimine, sul true crime, raccogliendo quante più informazioni possibili. Quando la lana aveva 20 anni, la polizia della contea di Boone le aveva permesso di accedere al fascicolo di sua madre. Aveva iniziato a intervistare i testimoni sperando di scoprire qualcosa di nuovo. Le era stato anche dato accesso al diario di sua madre. La lana aveva letto la parte del diario su Donald, scoprendo che suo padre aveva iniziato a fare cose non troppo corrette proprio con lui. Marlene aveva appreso da suo figlio che quella situazione era in corso da circa 4-5 anni a quel punto. Marlene dunque aveva scritto sul suo diario quanto segue. Ha cercato di nascondere quello che stavano facendo, ma so quello che ho visto. Immagino di essere morta dentro. Marlene aveva anche scoperto che ad un certo punto del loro matrimonio, Bill era stato condannato nel 1975 per aver arrestato due ragazzi. Tutto ciò che aveva scritto sul suo diario era ciò che Marlene aveva sperato di usare come prova contro Bill nell'imminente divorzio. La lana aveva scoperto che nel corso degli anni la polizia aveva presentato le cartelle cliniche di Marlene a varie agenzie. Poiché c'erano state più occasioni in cui erano state scoperte donne decedute che corrispondevano alla descrizione di Marlene. La lana aveva cercato di scoprire se c'erano resti femminili non identificati che potessero essere di sua madre, ma senza successo. Era venuta a sapere dell'esistenza del teschio con il foro del proiettile dei denti mancanti che era stato scoperto vicino alla sua vecchia proprietà nel novembre del 1981. La lana quindi era andata alla Waller Farm e aveva iniziato a perquisire la zona, sperando di trovare alcune risposte, ma non aveva trovato assolutamente nulla. Nel 2001 la lana aveva inviato un campione del suo DNA, sperando che un test del DNA mitocondriale potesse essere eseguito sul cranio non identificato. Voleva sapere se apparteneva a sua madre quel cranio. Il test del DNA mitocondriale era già stato utilizzato per determinare l'identificazione attraverso il lignaggio della madre e potrebbe determinare se il cranio apparteneva a Marlene Ox. Il test però sarebbe costato alla contea 20.000 dollari che si era rifiutata di pagare perché ritenevano fosse troppo costoso. La famiglia di Marlene era determinata a sapere se quel teschio apparteneva a lei oppure no. Sua sorella era così determinata a ottenere risposte che aveva persino pensato di usare il suo fondo pensione per pagare il test. Alla fine la contea aveva deciso di pagare per il costoso test, fortunatamente. Quando il teschio era stato testato si era scoperto che la lana e la donna non identificata a cui apparteneva il teschio erano parenti materni. Così era stato identificato come quello di Marlene Ox. Alla fine la lana si sentiva sempre più vicina alla verità. Sapeva con assoluta certezza che sua madre non li aveva semplicemente abbandonati. Marlene Ox era stata uccisa. Nel 2001 il padre di Bill Magure, un uomo di nome James Magure, si era fatto avanti. Aveva detto alla polizia che quando Bill era in prigione nel 1996 gli aveva confessato l'omicidio di Marlene Ox. C'è l'autorità che quando aveva sentito suo figlio parlarne era rimasto disgustato. Sfortunatamente la prigione non registrava le telefonate quindi non c'erano prove a supporto di questa affermazione di James. E chiaramente la dichiarazione del padre di Bill da sola non bastava. La polizia sapeva che scorreva una notevole quantità di odio tra padre e figlio. Più tardi la polizia era andata in Nuova Scozia e aveva chiesto al padre di Bill se potevano intercettare il suo telefono. Volevano che chiamasse suo figlio così avrebbero avuto una registrazione di lui che parlava dell'omicidio. James si era dimostrato collaborativo. Aveva persino suggerito di inventare una storia di copertura da raccontare a suo figlio. Sarebbe morto presto e gli restava solo pochissimo tempo da vivere. Non era vero ovviamente ma James Maggior pensava che avrebbe potuto indurre suo figlio ad aprirsi con lui. James Maggior dunque lo aveva chiamato come da istruzioni. La polizia sperava che Bill Maggior sarebbe stato disponibile. Tuttavia aveva risposto alle domande di suo padre in modo evasivo dicendo Perché ho la sensazione che qualcuno stia cercando di incastrarmi? Quando James Maggior aveva chiesto a suo figlio se poteva dire cosa era successo a Marlene Bill Maggior aveva risposto Anche se potessi, probabilmente non lo farei. James Maggior gli aveva spiegato che la lana voleva sapere cosa fosse successo a sua madre. Bill quindi aveva di nuovo risposto Senti un po', chiedi al ragazzo di Marlene Ora è in Indiana. Penso che se avessero parlato con lui sarebbero rimasti sorpresi fin dall'inizio. James Maggior aveva ricordato a suo figlio che aveva ammesso l'omicidio anni prima Al che Bill Maggior aveva risposto Beh, sai, all'epoca ero in prigione ed ero piuttosto sconvolto. Mentre la conversazione continuava aveva iniziato a parlare un po' più del caso, in effetti Bill. E, per carità, era stata una conversazione interessante, ma la polizia non era stata in grado di arrestarlo per l'omicidio in quel momento. Bill era stato accusato nel luglio 2001 e, come già detto, era stato estradato nel Kentucky. Appena Bill era in custodia, la polizia aveva iniziato a fare domande sulle indagini. Bill parla con il detective Jack Banks di quello che è successo la notte dell'omicidio di Marlene Hawks. Bill Maggior dice alla polizia che la notte dell'11 ottobre 1980 lui e Marlene avevano litigato mentre erano seduti nella sua Ford Pinto. Marlene, a quanto dice Bill, gli avrebbe puntato contro una pistola. Aveva cercato di portarle via la pistola e lei aveva iniziato a urlargli contro. Bill, quindi, dice che era letteralmente andato fuori di testa e aveva iniziato a sparare con la pistola fino a quando non aveva esaurito tutti i proiettili. Quando era tornato in sé, Bill si era reso conto che aveva ucciso Marlene. Dunque aveva lasciato il suo corpo in macchina ed era andato alla roulotte a prendere i bambini. Le aveva portati a casa della vicina per la notte. La vicina era Trini Base, la stessa che aveva comprato il suo trattore poco dopo l'omicidio e a cui Bill aveva dato le sue pistole. Bill poi aveva portato la Ford Pinto, ossia la macchina di Marlene, alla Waller Farm e aveva scaricato il suo corpo in una buca. Lo aveva coperto con della terra e con un pezzo di recinzione arrotolata, gettando la pistola in un fiume. Bill, a questo punto, disegna una mappa per consentire alla polizia di trovare i resti di Marlene. Spiega loro che aveva spinto la Ford Pinto nel fiume Ohio. Bill, inoltre, dice alla polizia che non provava alcun rimorso per aver ucciso Marlene. Nonostante la confessione della polizia e la mappa che aveva disegnato per loro, le autorità non riescono a trovare i resti di Marlene o la pistola. Usano un aereo per cercare la Ford Pinto blu, ma senza successo. Bill dice alla polizia che quando le aveva sparato nella Ford Pinto, lo aveva fatto per sei volte. Bill viene processato presso la Boom Circuit Court nel luglio 2003. A quel punto ha 59 anni. Bill è su una sedia a rotelle a causa di un ictus che ha subito nel 1995. La difesa di Bill durante il suo processo sostiene che l'ictus del 1995 l'aveva reso innocuo. Il suo avvocato Edward Rennan dice alla corte che la confessione di Bill non deve essere inclusa nel processo perché l'ictus gli ha confuso la memoria. Ha anche suggerito che Bill avesse agito per estrema sofferenza emotiva perché era geloso della relazione tra Marlene e Glenn. E tutto ciò non era vero. Questa relazione Bill la provava e come? Bill cerca anche di non partecipare al processo a causa delle sue cattive condizioni di salute, ma il giudice rifiuta la sua richiesta. Donald Hawks, suo figlio, testimonia che Bill ha fatto delle cose non corrette con lui ogni giorno prima dell'omicidio di sua madre e poi ha continuato anche a Rhode Island. Questo era ciò che Marlene Hawks aveva menzionato nel suo diario quando aveva deciso di prendere i bambini e lasciare Bill. Dice la corte che dopo che la polizia ha cercato di interrogarlo nel Rhode Island, Bill lo aveva aggredito e lo aveva accusato di fornire informazioni per incastrarlo. Donald spiega che quando sua madre era scomparsa, Bill aveva detto a lui e a sua sorella che era una prostituta con un grave problema con le sostanze. Anche la lana prende posizione ed escrive in modo dettagliato tutto ciò che Bill le ha fatto dopo essersi trasferiti a Rhode Island. La lana spiega alla corte come suo padre l'aveva minacciata di morte. Parla anche di come suo padre fosse stato arrestato per cose intimi quando vivevano a Rhode Island. James testimonia e racconta alla corte delle molteplici volte in cui suo figlio era stato arrestato. Dice che Bill non si era diplomato al liceo ma aveva ottenuto il suo diploma in prigione. James Maygure spiega come la seconda moglie di Bill, Pauline, aveva divorziato da lui mentre era in prigione per abortare. La testimonianza di James Maygure porta alla luce anche altri dettagli importanti. Bill una volta aveva messo incinta una giovane donna, poi l'aveva abbandonata e non l'aveva aiutata finanziariamente. La donna era finita in assistenza sociale cercando di prendersi cura del bambino. Bill Maygure aveva avuto due matrimoni falliti e si era sposato una terza volta con una donna di nome Claire Bailey, una sorvegliante di autobus. Bill le aveva mentito sul motivo per cui era dietro le sbarre, affermando che era stato arrestato per rapina a mano armata. Quando Bill Maygure era stato in tribunale per la sua condanna a 15 anni, James Maygure si era rifiutato di andare a far visita a suo figlio. Il processo contro Bill volge al termine il 28 luglio 2003. Dopo 43 minuti la giuria annuncia il verdetto di colpevolezza. Bill Maygure viene condannato all'ergastolo per omicidio, oltre che per manomissione di prove. Sarebbe andato al Kentucky State Reformatory, a La Grange. Helen Marlene Hawks viene finalmente sepolta. Lorraine Hawks spiega ai giornalisti di quanto fosse stato difficile vivere tutti quegli anni non sapendo dove fossero i resti di sua figlia. Ancora più difficile era stato scoprire che il cranio di Marlene era rimasto per anni in un laboratorio forense, la cui identità era sconosciuta. È stato un sollievo sapere che non era più una persona scomparsa. Bill cerca di appellarsi contro la sua condanna. Afferma che le autorità avevano commesso diversi errori. C'è stata una mancata concessione di un errore giudiziario sulla menzione di un test del poligrafo. C'è stata l'incapacità di sopprimere una conversazione telefonica registrata tra Bill e suo padre. Nel processo era stata messa come prova un'arma da fuoco, anche se non collegata al reato. Bill afferma nel suo appello che la corte non avrebbe dovuto consentire prove che mostrassero che aveva fatto cose parecchie inadeguate ai suoi figli o non avrebbe dovuto menzionare i suoi due matrimoni o l'abbandono del bambino o il fatto che era stato in prigione per aver fatto cose molto sbagliate dei minori. Sostiene che queste prove sono state menzionate col solo scopo di creare un pregiudizio nella giuria verso di lui, così sarebbe stato accusato di omicidio. La corte però sostiene che le prove presentate in tribunale, comprese le testimonianze sia di Donald che di Lana, sono state vitali per il caso. Si sono rivelate molto utili ed erano anche intrecciate con le altre prove. La corte quindi ha respinto le obiezioni di Bill in merito alle prove. La condanna di Bill alla fine in effetti viene rievocata nel 2005 e viene fissata una nuova data del processo. Viene citata per i seguenti motivi. L'indevita ammissione di prove di reati non imputati e l'ammissione della prova di armi da fuoco estrane al reato accusato. Gli concedono quindi un nuovo processo e la giuria, in questo nuovo processo, lo condanna per omicidio ancora una volta. Bill Maggior ha passato anni dietro le sbarre e gli è stata negata la libertà condizionale nel 2011. È morto il 15 ottobre del 2017. Il padre di Marlene, Billy Craig Hawks, viveva al Christian Care Center a Lancaster, nel Kentucky. È morto il 4 marzo 2013, ad 84 anni. La madre di Marlene, Lorraine McQuarrie, è morta l'11 febbraio 2021 nella sua casa di Lancaster, nel Kentucky. Aveva 88 anni. Lorraine e Billy sono entrambi sepolti nel cimitero di Lancaster insieme alla loro figlia defunta, Marlene Ox. Glenn si è trasferito in Texas per cercare un lavoro come saldatore dopo la scomparsa di Marlene. Lallana e Donald hanno cercato di andare avanti con le loro vite, pur mantenendo un basso profilo nonostante tutta la copertura mediatica dell'omicidio della madre e del processo del padre. Entrambi hanno cambiato il cognome di Bill anni prima. Lallana ha cambiato il suo cognome in Bremble, mentre Donald ha cambiato il suo cognome decidendo di usare quello da nubile di sua madre, ossia Ox. Donald si è trasferito nello stato di Washington, mentre Lallana lavora come responsabile in un negozio di bellezza. Sebbene l'omicidio di Marlene Ox fosse di natura orribile, è confortante sapere che finalmente c'è stata giustizia. Bill Maygure è morto dietro le sbarre, ma è un peccato che ci sia voluto così tanto tempo per incarcerarlo. I bambini hanno sofferto immensamente mentre erano sotto le sue cure, vittimizzati quotidianamente fino a quando non sono riusciti finalmente a convincere qualcuno ad intervenire. Lallana Bremble aveva adottato misure estreme per garantire che il caso di sua madre fosse risolto e che potesse essere sepolta. La sua perseveranza era davvero ammirevole. Il caso non sarebbe mai stato risolto se lei non avesse insistito affinché indagassero ancora sul caso di sua madre, soprattutto quando ha testato il testo con il suo DNA, dimostrando che era davvero di sua madre. Ovviamente una delle prove più importanti era il diario di Marlene Ox, che descriveva esattamente ciò a cui aveva assistito. Il diario sarebbe stato probabilmente distrutto da Bill Maygure, o non considerato importante, o perso nel trasloco. Ma per fortuna Marlene si era assicurata di affidarla a qualcuno che sapeva si sarebbe preso cura di quella prova nel caso in cui suo marito avesse fatto qualcosa. Glenn l'aveva tenuto al sicuro e l'aveva portato alla polizia. Marlene, se ricordate, aveva detto a sua sorella e a Glenn di guardare il suo diario nel caso le fosse successo qualcosa. La verità è che il suo diario ha aiutato a risolvere il suo stesso omicidio e ha aiutato i suoi due figli piccoli a fuggire finalmente dalla custodia del padre. Detto questo, io ho finito di parlare in questo video, spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti riguardo questo caso. Lo conoscevate? Scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!